A leggere i quotidiani di Torino e di siti che fanno da corollario la quotidianità della squadra Granata, sullo sponda torinista del Po poco importa il Bologna in quanto tale, che scenderà in campo allo stadio olimpico Grande Torino sabato sera alle 20.30, quanto al ritorno di Sinisa Mikhailovic, molto atteso invece. Il serbo è stato alla guia del Toro per un anno e mezzo circa, per poi essere esonerato dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus il 4 gennaio dello scorso anno. Il tecnico arriva nel capoluogo piemontese con ben più dura motivazione per fermare al Torino e dimostrare che il suo valore non è stato compreso fino alla fine. Di certo non sarà una passeggiata di salute neppure per Mija, che ha la zona salvezza lontana un punto in classifica e si trova di fronte ad una squadra più informa del campionato. Uno dei dubbi per il tecnico serbo in vista del match contro il Toro riguarda proprio il ruolo dell'attaccante centrale. Il Bologna potrebbe riproporre il tridente leggero, compararsi o guidare il reparto offensivo oppure rispolverare e recuperare Mattia destro a Ud alla sfida contro il Genoa, partita nella quale però tornò al gol che va a se momentaneo vantaggio sulla squadra di Cesare Prandelli. Va detto a scanso di equivoci che per uscire con dei punti da quella che è inoltre 100 anni di storia del calcio italiano e da leggere come una vera classica, il Bologna dovrà fare gli straordinari. Tre successi consecutivi, sette risultati di fila utili, di cui cinque vittorie e solo due pareggi, sesta posizione in coabitazione con l'Atalanta e tre punti dal quinto posto e sede della Champions League. Ecco il Toro di oggi, una classifica che è il bassimo per gli occhi dei suoi tifosi, mentre quella del Bologna non è per una rassicurante.